ciao benvenuto a un solito appuntamento con l'analisi su il bitcoin l'aggiornamento che vedremo tra breve e dimostrerà per l'ennesima volta come l'indicatore voltem sia in grado di prevedere quello che farà il mercato con largo anticipo perché anche in questo caso la previsione è stata perfetta da un punto di vista del giorno in cui il mercato è partito il tutto l'evento lo vedremo subito dopo la sigla del canale mi raccomando non andare via eccomi qua come sempre un una breve presentazione io sono paolo pisino sono il fondatore del sito intradimpertutti.com e sono un trader dal 2007 invito a visitare il sito iscrivete al canale telegram gratuito dove ogni giorno riceverai due analisi ciclica multiday gratuite e anche analisi ciclica intraday su dax nasdaq e da un jones almeno due volte alla settimana che sono sostanzialmente i miei segnali di ingresso a mercato ti invito anche a prendere visione del corso di analisi ciclica 10 anni di studi riversati interamente in questo corso di formazione di 41 ore se sei invece interessato a un corso per analisi volumetrica lo trovi cliccando su questo link con un corso di 9 ore e poi ovviamente l'invito principale in questo caso è iscriverti alla community riservata la community premium di traders avanti anni luce rispetto alla massa degli altri traders perché analizza i mercati da un punto di vista ciclico con uno strumento unico e la cosa fantastica di questo gruppo è che si lavora tutti insieme quindi generando analisi generando anche opportunità che chiunque può e prendere nella maniera del tutto gratuita all'interno del gruppo premium puoi trovare cliccando su dettagli anche come funziona l'indicatore con sbagliati esempi sia per quanto riguarda cicli più grandi che cicli più piccolini e il costo di noleggio che veramente molto molto esiguo pensa con un annuale sono meno di 45 euro al mese per avere accesso l'indicatore aule dei sempre chiaramente inclusi gratuiti il canale telegram esclusivo riservato quindi qualcosa di veramente pazzesco andiamo a vedere la nostra analisi nonostante i commenti denigratori che cercano sempre di screditare quello che è il mio lavoro l'ignoranza atomica che c'è nel chi scrive commenti e che vanno a commentare l'unica metodologia presente probabilmente su youtube che è impossibile da negare perché basta andare nel passato ci si guardano tutte le mie analisi di aggiornamento e il mercato sostanzialmente fa quello che prevede l'analisi ciclica ma è normale che sia così in quanto è analisi ciclica io settimana scorsa avevo detto che si potevano anche rivedere i livelli di 26.495 ma all'interno di una componente ciclica rialzista era comunque sconsigliato entrare short e bisognava attendere se ben ricordate la rottura almeno di 28.471 avevo dato il minimo previsto per il 12 di aprile il minimo si è verificato il c'è l'ultima candidata ribassista il 9 aprile e quando è partito il mercato è partito il 10 quindi stiamo parlando di due giorni di diciamo tolleranza all'interno della componente ciclica di 40 giorni sfido chiunque fare un'analisi migliore di questa qua cosa ci dobbiamo aspettare adesso per quanto riguarda bitcoin come ho detto anche settimana scorsa come ribadisco anche in questa analisi qua la tendenza di fondo è rialzista non c'è niente di ribassista dal punto di vista ciclo su bitcoin abbiamo però l'ottanta giorni che vede un suo picco il ops andiamo a spostare anche questo il 2 di maggio lo lasciamo il 2 maggio vediamo se lasciamo a centrarlo ok è previsto per il 21 di aprile abbiamo però al 40 giorni che invece è previsto per il 2 di maggio cosa significa significa che accendo la lavagna un attimino rieccomi significa che tutta questa zona ok tutta questa è una zona in cui ci possiamo aspettare un ribasso anzi c'è un ribasso un picco ciclico anzi andiamo a fare in questa maniera perché questa zona praticamente tra il 21 e il 2 quindi che cosa significa significa che quando inizieremo arrivare intorno al 21 quindi intorno a questa data andare a cercare indicazioni rialziste sarà un pelino conto producente qui tra l'altro abbiamo anche una buona sincronia avremo al momento una buona sincronia perché vediamo che l'ampiezza in questa fase di ribasso è interessante però ci dobbiamo concentrare su quello che sta per accadere e in questo momento il mercato è rialzista di short ovviamente non c'è nulla e quindi potremo andare a cercare indicazioni a rialzo come sempre dico non mi piace entrare a breakout io preferisco nel mio trading intraday andare ad aspettare situazioni del genere quindi un mercato che va a ritracciare quindi per quello che mi riguarda sarà più interessante attendere eventualmente un 28.471 io parlo per la mia e operatività per il mio metodo di lavoro poi ognuno libero di fare quello che vuole chi ha preso la breccata perché avevo generato un segnale show long il 12 di aprile sicuramente ha fatto bene perché tra l'altro anche incassato un bel po perché di quanto è salito mi pare più di 10 per cento 9 per cento netto praticamente in in tre giorni guardiamo se c'è qualche livello da poter utilizzare qui era abbastanza ovvio che il mercato stentasse un po perché questa è tutta una zona ad alto volume molto molto alto infatti si sta un attimino arenando andando poi nel passato un'altra zona ad alto volume ovviamente l'abbiamo tutta piazzata qua non è sicuramente semplice da lavorare in questo momento bitcoin che comunque qua ci sono tutte zone ad alto volume ma è innegabile che il mercato sia rialzista se vogliamo basarci su livelli prontamente tecnici il prossimo livello sarà appunto il 32.148 e quello successivo e 32.944 quindi ipc di oggi permettendo il bitcoin è ancora rialzista per quel che mi riguarda molto più interessante attendere un ritracciamento e poi una ripartenza per chi invece già long eventualmente di guidare il 32.148 anche solo una parte e poter mantenere le operazioni perché no fino ai prossimi livelli tecnici come dicevo sono il primo 32.935 secondo 34.131 per gli ethers la fase è rialzista e rialzista significa che la componente ciclica di fondo rimane rialzista così come era stato previsto da io dico soltanto il 10 marzo 2023 con questo direi che è tutto come sempre se ti è piaciuta l'analisi ti invito a mettere un like e ci aggiorniamo con la prossima fase su bitcoin ciao ciao